Era una guardia giurata di 56 anni, Luigi Albertelli, l'automobilista travolto dalla furia dei fiumi ingrossati in Balnure e Valtrebbia nel Piacentino. E sono ancora dispersi un padre e un figlio di Betola che si trovavano sulla strada provinciale 654 quando un tratto è stato inghiottito dall'acqua. Alcune frazioni sono isolate e i vigili del fuoco sono impegnati nel soccorso soprattutto degli anziani. Due milioni di euro sono stati stanziati dalla regione Emilia Romagna per far partire subito i primi interventi nella zona colpita questa notte da piogge torrenziali. E una tempesta di fulmine e un nubifraggio si sono abbattuti su Genova e il Levante dopo la mezzanotte. Montoggio è il paese più colpito, lo scrivia ha rotto gli argini e l'acqua ha portato fango e detriti. Tutte le scuole sono chiuse. La regione Liguria chiederà lo stato di emergenza. Da domani però, a parte qualche incertezza su Alpi e regioni terreniche, l'alta pressione porterà il bel tempo.